Ciao amici, sono qui con un numero 1, Alex Schwarzer. Ciao Alex. Ciao Alfonso. Ciao, credo che sei venuto a Cortina. Come vai? Sono venuto per ringraziati dell'invito innanzitutto per entrare nella casa. Quindi ci sarai? Io ci sarò se vengo messo nella condizione di potermi anche allenare. Ce lo siamo detti e ce lo siamo promessi perché è importante per te. Perché? Perché io ho intenzione di tornare alle gare e quindi per nessuna causa voglio interrompere i miei allenamenti. E io ti prometto che ti seguiremo giorno per giorno in questo allenamento che so che sarà molto tosto, degno di un campione olimpionico come sei tu. E quindi ogni giorno ti seguiremo in diretta dalla casa del Grande Fratello perché tu possa finalmente partecipare alle gare di qualifica per le Olimpiadi di Paris. Speriamo. Va bene? Sarebbe il mio obiettivo. A fare fatto? A fare fatto. Welcome nella casa del Grande Fratello. Grazie. Ciao all'11 settembre. Ciao. 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 Grazie a tutti.